ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora dicevo in pratica ho svolto la spesa eurospin ma siccome nel verul settimanale che ho creato per questa settimana cioè da adesso fino a domenica, anzi lunedì c'erano delle cose senza glutine che dovevo prendere sono andata al Galassia e quindi volevo farvi vedere quello che ho preso al Galassia e poi domani e Pia andremo all'Eurospin e vi farò vedere quello che prenderemo all'Eurospin che è la maggior parte della Roma e ovviamente vi farò vedere anche il menu settimanale come l'ho creato, cosa ho deciso di fare e così mi fate anche sapere cosa ne pensate ci siamo a caso di gridare? ve lo metterò in fondo il video è impazzito allora la prima cosa che ho comprato sono stati questi gnocchi della Selex da 500 grammi che praticamente perché stasera il menu prevede gnocchi col pesto quindi li ho presi perché Maurizio e Gabriele li hanno senza glutine che li ho presi in parafarmacia e qui ho preso questo pesto siccome dovevo andare appunto al Galassia non sono stata a prendere il nostro all'Eurospin ma sono direttamente a andare cioè ho preso direttamente tutto lì e ho preso tre pesti di questo qui della Biffi che è 100% riciclabile la confezione monomateriale senza glutine con basilico genovese DOP poi siccome mi serve per fare una ricetta in particolare questa settimana ma comunque la uso parecchio anche nei dolci soprattutto quelli appunto senza glutine di Gabriele visto che ero lì ho preso la fecola di patate che costa 79 centesimi il pesto 2,15 euro e gli gnocchi a 1,39 euro poi c'era in offerta se riesco a girarvela bene ok l'ho bloccata con quello c'era in offerta 50 centesimi questa passata di pomodoro della marca La Torrente pomo bio passata di pomodoro di agricoltura biologica senza sale aggiunto pomodoro italiano 100% aspettate siediti no dopo la boost da 700 grammi qui c'è scritto vegan ok era allo scontato del 50% e quindi ho preso questa qua ne ho prese tre perché ci servono appunto per la settimana poi siccome mi serve sempre per qualche ricetta ho preso il comino in semi della canna mela cercavo anche il timo ma non l'ho trovato e poi ho preso il dado classico della Knorr 20 dadi senza glutine e questo qui anche era in offerta 0,99 quindi ne ho prese tre confezioni Pia vi faccio vedere una l'ha aperta e l'ha sparsa per tutta la borsa e niente quindi quello che ho preso al Galassia è tutto qui vi dico un attimo quanto costa il cumino della canna mela 1,85 euro quindi questo è tutto quello che ho preso al Galassia ci vediamo tra pochissimo con la spesa dell'Eurospir allora eccomi eccomi con la spesa dell'Eurospir una nuova postazione oggi perchè ho il tavolo occupato e vi faccio vedere subito quello che ho preso partendo dalla colazione ho preso questi croissant con la confezione da 10 perchè comunque loro sanno in tanti vanno via in fretta da portare a scuola questi quindi li ho presi con la farcitura alla ciliegia con la crema con la crema bigusto c'è vaniglia e cioccolato con la farcitura all'albicocca ah ne ho prese due vabbè con la farcitura all'albicocca e poi con il cioccolato queste qua sono quelle che vanno più di tutte secondo me comunque pensavo di averne prese anche un pacco la crema invece no le ho prese tutte e due all'albicocca comunque ho preso queste cose qui poi sempre per la colazione che sono divisi in cinque pratiche pacchettini ho preso i wafer alla nocciola e i wafer al cacao questi biscotti al gusto vaniglia che sono fatti così e praticamente sono sei pacchettini da cinquantacinque grammi poi i pavesini sono otto pratiche monoforgioni un minestrone due pacchi di questi crostini per zuppe e insalate perché l'altra volta li ho presi che erano in offerta ci sono piaciuti e quindi li ho presi di nuovo una confezione di pecorino cinque sacchetti di parmigiano pacchetti di parmigiano reggiano dopo grattugiato cento grammi due pacchettini l'altro lì di broccoli di cavolini di Bruxelles e una confezione di farfalle poi un pacchetto di mezze penne rigate da cinquecento grammi una confezione di masdam da trecentocinquanta grammi un cavolfiore due melanzane una confezione di piselli fini da un chilo due pacchi di carne di carne tritata c'è scritto offerta speciale macinato misto bovino suino questo qui pesa tre etti 88 e l'ho pagato 1,94 euro invece quest'altro tre etti 94 e l'ho pagato 1,97 euro una bottiglia di aceto di vino rosso un po' di zucchine tipo un chilo e due due pacchi di carote da un chilo e due confezioni una ancora sparsa nella borsa di mozzarella e poi un sacchettone di mele da due chili poi tre barattoli di piselli fini questi qui appunto nel barattolo due di fagioli borlotti quattro pappe per i gatti una per ogni gusto quattro barattolini di lenticchie poi i pomodori secchi due peperoni rossi ho trovato fortunatamente il timo perché l'altra volta che sono andata non c'era e mi serviva stavolta per fortuna l'ho trovato tre le altre due sono lì barattolini di ceci una confezione da tre bustine di zafferano gli spinaci erano finiti perciò ho preso le bietoline porzionate una confezione da 600 grammi quattro pappe per il cane due manzo due pollo tacchino e poi un sacchetto di farro perlato da 500 grammi poi un mazzolino di prezzemolo che devo pulire mettere in frizz perché me ne serve sì così fresco qui ci sono ancora le cose mi serve sì così fresco ma non mi serve tutto quindi tutto il resto lo trito e lo metto in freezer poi ho preso due pacchi di zucchero uno yogurt bianco 0,1% di grassi i formaggini al parmigiano reggiano che sono senza glutine vi chiedo scusa per le mie unghie ma è un casino poi un brim un burro da 250 un burro da 500 grammi due sacchettini di pinoli che costano cari come il sangue un pochettino di noci sgusciate poi come novità ho trovato queste fette di segale croccanti con sesamo che mi sembrano simili a quelle che ci sono a Lidl a parte il fatto che sono di segale quindi le ho volute provare poi un succo all'ace un detersivo questo qui additivo disinfettante bucato che mi sto trovando benissimo una panna da cucina due confezioni di pancetta fumicata a cubetti due confezioni di specking stick tre confezioni di cotto a dadini che è senza glutine e senza lattosio e poi questa confezione di aromi misti che anche qua mi servivano allora mi serviva rosmarino la salvia per tenere i separati li ho presi così insieme che così c'è anche no pensavo che c'era anche la loro invece no misti un corno ci sono rosmarino e salvia vabbè misti va bene ho preso poi purtroppo quattroceri e poi i sacchetti per la spazzatura ho preso questi qui azzurri per l'indifferenziata questi invece che sono più grandi li ho presi perché ho trovato dove portare i vestiti che noi e le scarpe che noi non vogliamo più che non usiamo più che non ci vanno più e quindi se come qualche sacco può darsi che magari si è rotto o si romperà magari agganciando da qualche parte oppure quando avevo magari dei pezzettini così facevo dei sacchetti più piccoli così almeno vado a fare dei sacchi più grandi e poi ci serviranno anche a noi perché ho intenzione di montare davanti a casa quando viene il freddo in genere monto un aggeggio per la spazzatura per metterci i sacchi così grandi ora parte indifferenziata che farò i sacchettini piccoli in casa e poi magari ce li andrò a mettere dentro per quanto riguarda la plastica preferisco fare sacchi così grandi non ne facciamo tantissimo adesso non prendendo più l'acqua però comunque così almeno non dobbiamo stare a andare giù tutti i momenti oppure con dei sacchettini piccoli che poi ce ne sta poca perché invece così c'è sacco grande una volta che l'hai riempito chiudi e parti giù e poi ho preso una confezione di scalogno e un avocado che è ancora duro come le pietre quindi lo metterò a maturare insieme alle mele e poi per finire ho preso un riso a chicco lungo questo qui il pacco da 5 kg che ho quasi sempre preso perché ho intenzione di fare adesso che arriva un po' più il freddo tanti risotti e poi quando aspettate quando noi per noi magari tipo faccio il farro per Maurizio e Gabriele invece faccio il riso e poi ho comprato un sacchettone di patate da 4 kg perché adesso appunto sempre anche che viene il freddo le utilizzo un pochettino di più magari anche per fare le vellutate queste cose qui per fare gli gnocchi la spesa è tutta questa spero che il video mi sia piaciuto se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto mi raccomando attivate la campanellina per non perdere i nostri prossimi video vi ricordo anche che potete seguirci su facebook e su instagram il nome è sempre otto sotto un tetto e niente noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao 1,2,3 come on come on come on ahhh